Che parlare di Negramaro? A sulle nuove pesne Ricominciamo tutto, uccasnizze Sanremo. Il genere sai qual è? Il genere sai qual è? Genre, sai qual è? È Negramaro, è assolutamente Negramaro. È Negramaro, è assolutamente Negramaro. Genre dei pesni Negramaro, assoluto, stile Negramaro. Non sappiamo più quale genere siamo. Non sappiamo più quale genere siamo. Non abbiamo mai pensato al genere. Non abbiamo mai pensato al genere. Rock sicuramente ma è un'attitudine, dai. Rock sicuramente è un'attitudine, dai. Определенно rock, это предрасположенность, это склонность. И dai в конце, давай назовем это так. Здесь мы учим итальянский, подписывайся.